Maroon 5, no non ci siamo Eccoci, ora siamo in realtà Eccoci, 8 e 19, allora io volevo entrare sulle noti di Wake Up Call Visto che piace tanto Canzone meravigliosa, meravigliosa Maroon 5, Maroon 5 2007 Addirittura sei andata a scovare l'anno Sta scritto là perché mi ho chiamato per quello, finché se mi andavo a ricordare Ma è arrivato il momento invece di proiettarci sull'immediato futuro Sul presente, sul presente E in particolare su una iniziativa Fa me la fare con una frase che ho pensato poco fa Sapete cosa mi piace del carnevale? E che sai che quelle sono maschere Pensavo volessi dire che ogni scherzo vale No, no, non sono così banale E allora sì, parliamo di carnevale quest'oggi Finalmente dopo tanto parlare di amministrative Cerchiamo di dare un po' di gioia ai nostri ascoltatori Siamo più seri in questo momento E allora vi presentiamo subito l'ospite di oggi Siamo in compagnia di Gerardo Stripoli Presidente della Proloco Quadratum di APS di Corato Bentrovato Presidente Buongiorno a voi e grazie per l'invito Quindi lo avrete già capito Parleremo del carnevale Coratino Un'esperienza caratteristica Io non ci sono mai stata Lo dicevo poco fa il Presidente Ma dopo aver visto qualche foto Dopo aver parlato con il Presidente Ci andrò assolutamente Intanto io vi ricordo i numeri Per intervenire in diretta 080 501 4668 per le vostre telefonate E 080 501 9998 Invece per i vostri messaggi whatsapp E allora intanto partiamo dal fatto Che parliamo di una manifestazione quasi storica Siamo alla 44esima edizione Presidente Sì, il carnevale Coratino Così come è organizzato oggi E' partito nel 1978 Da una situazione molto particolare Si sa che quando si raggiunge il fondo del barile Si raschia il barile Non c'è altra soluzione Che quella di risalire Darsi una bella spinta Darsi una bella spinta In effetti il carnevale Coratino Diciamo alle sue origini Alla fine dell'Ottocento Quando i gruppi si organizzavano spontaneamente Le maschere giravano liberamente Spontaneamente per il paese Però negli anni 60 Alla fine degli anni 60 E agli inizi degli anni 70 Queste forme di libera circolazione delle maschere Sono state ostacolate Da atti che addirittura sfociavano In atti di teppismo, di vandalismo Addirittura si aveva paura di uscire dalle case E quindi la comunità E' stata sensibilizzata Dalla Proloco di Corato Che ha avuto questa intuizione Cioè proprio quella di Riabituare la comunità A sano e puro divertimento Nel rispetto di tutti E qual è stata appunto Diciamo ecco L'intuizione E' stata quella di Intanto coinvolgere le scuole Quindi Didatticamente Ecco Abituare I ragazzi Perché si parte già da quando sono bambini Si parte da quando sono Si parte da quando sono Bambini Parallelamente alle scuole E' stata coinvolta Tutta la comunità Dal punto di vista Delle aziende Che comunque Sostengono anche Il Carnevale Corantino Dal punto di vista delle Associazioni Delle parrocchie E di privati cittadini Presidente la interrompo solo un attimo Perché abbiamo un ascoltatore in linea Pronto? Buongiorno Pronto? Non riusciamo a sentire Eccola La sentiamo Buongiorno Buongiorno Prego Jerry Buongiorno Jerry Buongiorno Carissimo Roberto Volevo chiedere al Presidente Perché Diciamo Sicuramente Sarà un bello Carnevale Perché Diciamo Non fare una bella Scorpacciata Di Come si chiamano Adesso Non mi sovviene Di Bruschettata Con olio extravergine Non parliamo di cibo A quest'ora del mattino Perché mi fai già venire fame Io sono a dieta Quando si sente Corantino Poi uno La prima cosa è l'olio d'oliva L'olio d'oliva Certo Non so se ci sarà In qualche modo L'olio d'oliva Ci sarà sicuramente Ci sono attività Che proporranno Anche Dei menù particolari Dove Diciamo L'olio La fa Si mangia Non ci si diverte Sott'ante E quindi Ci sarà la possibilità Comunque Ecco Di degustare Vari prodotti Tipici Quindi Se vi dovete vestire Mi raccomando Occhio alle barbe Perché poi diventa Complicato Mangiare Insomma Se l'abbigliamento Non lo consente Perché rimane Un po' tutto quanto Se lei viene a trovarci Avrà modo Lo faremo Lo faremo Presidente Di gustare anche I prodotti tipici Lei poco fa Diceva che Una delle caratteristiche È proprio quella Di questi gruppi Organizzati Che arrivano a contare Mi ha detto Anche 700 persone Sì Abbiamo Dei gruppi Che arrivano Anche 700 800 elementi Quindi Una Macchia di colore Enorme Di Di suoni E di E di danze Perché comunque Ecco Il carnevale Coratino Si distingue Proprio Per essere Un carnevale Di gruppi Mascherati Che Comunque Preparano Non solo Diciamo I loro I loro costumi Quindi C'è tutto Un fermento Intorno Di Sarte Di Di Quindi una preparazione Che diventa parte Integrante dell'evento Che diventa parte Diventa parte Integrante Ma non solo Ecco per esempio Da alcuni anni Gli istituti scolastici Sviluppano anche un tema Dedicato Al carnevale Quindi Costumi Relativi al tema Che Viene declinato Ma Anche Coreografie Quest'anno Per esempio Il tema Proprio perché Il carnevale Diciamo Vuole dare anche Un messaggio Che è quello Diciamo Ecco Della Pace Certo E quindi Il tema E' proprio I popoli Del mondo Quindi I vari istituti Scolastici Stanno Diciamo Realizzando Dei costumi Delle coreografie Proprio in base A questo tema Mentre per quanto riguarda I gruppi privati A concorso Come dicevo Diciamo Sono due cose Parallele Due filoni Due filoni Hanno un tema Un tema libero Sono Diciamo Ecco Qual è la cosa più folle Che ha visto In questi anni Presidente Sono curiosa Beh La cosa più folle E' stata per esempio La realizzazione Da parte Di una Di una signora Che Ha i suoi I suoi anni Che Che comunque Crede molto Nel carnevale E Dimostra La sua La sua fantasuzia La sua energia Nonostante Nonostante Gli anni E L'invenzione Di una maschera Da questa Da parte Di questa Signora Che Noi abbiamo voluto Poi Che diventasse Una maschera Di carattere E Come si chiama Questa maschera In che cosa consiste Ve lo dico In coratino Le melone De veloce Cioè I meloni I meloni Le anguri Insomma Di veloce Biagio 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 era Un famoso Fruttivendolo Di corato Che Recitava sempre Una frase Alle signore Che andavano A prendere La frutta Da lui E che Guardando le angorie Non si fermavano Solo a guardarle Ma A tastarle Per capire Se fossero Maturi o meno La famosa prova del melone La famosa prova del melone Enormi Di Diciamo Di gomma a piuma E' fantastico Vederle E addirittura Un anno Mentre si sfilava Diciamo A metà sfilata La pioggia Diciamo Si è fatta vedere Aia E fino a quando sono Diciamo E' terminata E' terminata La sfilata Questi Costumi di gomma a piuma Erano diventati Pesanti Più di un quintale Quintali E non riuscivano nemmeno A muoversi Insomma Presidente io immagino La vivacità ovviamente Delle immagini E non è un caso Insomma che Quando si parla Di carnevale Coratino Si associa anche Al concorso fotografico Insomma Si ecco Diciamo Il carnevale Coratino E' costellato anche Di una serie Di eventi Collaterali Tra cui Il concorso Fotografico Che Diciamo ecco Mette Mette un attimo Alla prova Esprona Non solo I fotografi Diciamo Professionisti Ma anche Gli amatori Della fotografia E vengono fuori Delle fotografie Eccezionali Abbiamo un fotografo Qui perché Nostro Roberto Maggi Si dedica Si diletta Con la fotografia Beh avrà Se viene a trovarci Avrà l'occasione Di Ecco Di cogliere Alcuni Aspetti Molto Molto Particolari E Diciamo Fermarli Perché Il bello Della fotografia E quello E tra l'altro Questo diventa Un attrattore Un attrattore Molto forte Perché poi sappiamo Anche che con la condivisione D'immagine Abbiamo visto che Tante tante manifestazioni Diventano poi Particolarmente Significative Perché poi si diffondono Attraverso il web E quindi diventano Degli eventi Sempre più Più internazionali Anche grazie Proprio alla fotografia Sì sì È proprio È proprio così Quindi Noi andiamo ecco Ad arricchire Il nostro Archivio Proprio Grazie Diciamo Alle Fotografie Che Comunque Vengono Conservate Relativi Appunto Ai concorsi Fotografici C'è anche Il contest Instagram Pure Di fotografie Quindi insomma Davvero C'è da Sbizzarrirsi Soprattutto per chi Ama la fotografia Per chi ama il carnivale Per chi ama i colori Fondamentalmente Presidente Intanto Abbiamo fatto un erroraccio Giornalistico Non abbiamo detto i giorni 11, 13 e 18 febbraio Quindi segnateveli Leggevo Mi ha incuriosito Molta questa La storia Voi avete delle maschere Che sono caratteristiche Tipiche Leggevo Upanzone Se non lo so se lo dico bene La vecchia Red Bene Ne abbiamo addirittura Tre Maschere tipiche Che sono appunto Come lei diceva Upanzone La vecchia Red E Uschereff Lo scereffo Ognuna delle quali Ha la sua Ha la sua Storia Anche Diciamo ecco Un profondo Significato Antropologico Se vogliamo La più antica E' la vecchierella Ed è praticamente Diciamo Risale Risale addirittura Diciamo ecco Al regno borbonico E quindi come si sa Diciamo la Puglia Ha fatto Ha fatto parte Di questo Grande Grande regno E non è altro Non è altro Che Il pulcinella Portato A spalla Dalla vecchietta Che comunque E' Diciamo Ricurva su se stessa Ma Non Non cede Quindi qual è Il grande significato Di questa Maschera Molto bella Quella Diciamo ecco Dell'esperienza Degli anziani Che viene Trasferita Al Diciamo Al giovane E nello stesso tempo L'anziano Che vuole continuare A Diciamo Raccogliere esperienze Nonostante Il peso Il peso Dell'età Poi c'è Il Il panzone Che risale Alla fine Alla fine Dell'ottocento Quando Ha avuto inizio La La storia Diciamo Delle Delle Rivolte Contadine Del Diciamo ecco Del riscatto Che I contadini Cercavano Dal punto Di vista Diciamo Sociale Ed Economico Insomma Per Far sì che Venisse Riconosciuta La loro Diciamo Posizione Dal punto di vista Ecco Del Del lavoro Che molte volte Veniva Sfruttato Dai Richi potenti A tutto conferma Del fatto che il carnevale Non è uno scherzo È una cosa seria Perché c'è un simbolismo C'è un simbolismo Molto molto importante Dietro Noi siamo purtroppo In chiusura Però ricordiamo i giorni 11, 13 e 18 febbraio C'è già stata una piccola Anteprima Carnevale Coratino Organizzato dalla Proloco Quadratum Aps Tra l'altro Fammi aggiungere Serena Che sulla pagina Facebook Che vi abbiamo mostrato In qualche passaggio Carnevale Coratino Potete trovare Tutte quante le indicazioni E ovviamente anche sul sito Della Proloco Corato Insomma Quindi Tutte quante le indicazioni Le informazioni Su come arrivare Che cosa seguire E gli eventi Che si trovano All'interno Della manifestazione Li trovate qui sopra E allora Con la promessa Presidente Di trovarci lì Perché io e Roberto Ci saremo Con le nostre macchine fotografiche Grazie Grazie al Presidente Gerardo Stripoli Per essere stato con noi Grazie mille Grazie a voi Per averci seguito Per essere intervenuti Non andate via Perché noi ci fermiamo Per un po' di musica Ma subito dopo Voleremo a Sanremo Con il nostro Andrea C